E niente, è successo. Una volta all'anno metto la sveglia, mi sveglio e mi riaddormento. Quindi oggi niente uscita, ho bellamente tirato pacco ai miei compagni che giustamente non mi hanno aspettato e sono andati perché non avrei mai visto il telefono. Ero alla grande nel mondo dei sogni. Così. Comunque, giretto al volo giusto per prendere un caffè, quella Epic in Borghese. E niente, per oggi l'uscita è saltata, forse ci si vede più tardi su Zwift. Quindi digitale, anche perché qua è bello, ma qua minaccia comunque pioggia. Oggi va così, solo indoor. Oppure, se riesco a incastrare un'uscita presto presto, durante la settimana, alla mattina. In ogni caso questa settimana arrivano delle novità, quindi stay tuned. Mi raccomando, restate connessi. Mi raccomando, restate connessi.